Dopo una commissione apposita e un punto inserito all'ordine del giorno in Consiglio Comunale, il progetto dell'area ex Siamici è stato presentato ufficialmente questa mattina in aula consigliare. Ha esordito l'assessore all'urbanistica Tiozzo Massimiliano, il quale ha voluto evidenziare che il voto favorevole con cui la maggioranza ha sostenuto il progetto è stato fondamentale. Il progetto presentato ha modificato, migliorandolo, quello preesistente. Se il voto fosse stato contrario non sarebbe stato possibile presentare un progetto con ulteriori migliorie ma solo la riproposta del vecchio mancante delle opere di compensazione. Tre, gli edifici a bassissimo consumo energetico quasi pari a zero con la possibilità di riciclo dell'acqua meteorica e una vasta area verde inglobata che andrebbero a valorizzare l'intera area in un progetto che rende fiero lo staff di Zero Più Architettura di averlo realizzato in team con Pan Veneta per offrire un volto nuovo alla città. Giardino sospeso il nome del progetto che vedrà il verde come un punto importante della realizzazione mantenendo molte delle alberature presenti e creando spazi per altre essenze che andranno a creare un unico ferruge nella zona con una scelta di piante sempreverdi bisognose di poco consumo idrico. Un punto su cui gli architetti insistono è la socializzazione che potrà trovare qui un terreno fertile offrendo spazi che non saranno alla merce di giovinastrime che saranno fruibili nell'arco delle 24 ore da chiunque togliendo limiti e recinzioni ma all'attenzione di un servizio di telecamere di sorveglianza sotto una fulgida o illuminazione notturna. Una continuità di percorso che partirà dal porticato del caseggiato che si affaccia sul piazzale per raggiungere in una visione futurista ma non troppo l'area dell'arena d'use e la spiaggia. Ci sono alcuni punti ancora in itinere in quanto alcuni dubbi manifestati in commissione sono stati colti e tenuti in considerazione dalla proprietà e dallo studio tecnico. Tra questi la pavimentazione di piazzale Europa realizzata in San Pietrini a formare un delizioso e storico disegno a conchiglia che sarà in buona parte mantenuta e i parcheggi che verranno posti nella parte posteriore del gruppo di edifici in modo di lasciare le vetture non in bella vista. Tra le opere compensative dieci stalli ceduti al comune ed altri venti in uso e negozi disponibili in orario dotturno. Il lavoro sarà fatto a stralci, per il primo saranno necessari almeno tre anni. Resta attualmente la mancanza di certezze per quanto riguarda il capolinea bus che fino a marzo utilizzava una pensilina dell'edificio che ora si è terminato di abbattere. L'ufficio lavori pubblici sta studiando un'area alternativa nella zona in quanto l'idea è di mantenere qua un presidio, punto nevragico della città senza perdere però posti auto. Nel frattempo la demolizione è stata completata e si stanno cominciando a conferire i residui del cantiere. Allora siamo alla Cama, il pesche della Cama qua ai saloni e la Cama ha deciso di iniziare il servizio di pulizia del pesce. È assolutamente obbligatorio la prenotazione per la pulizia del pesce. Se qualcuno giustamente vuole prima venire a vedere il pesce, voi sapete qua avete il prezzo, avete la qualità per la pulizia passa magari pomeriggio o quasi a pubblicare. La prenotazione si chiede almeno il giorno prima e al numero WhatsApp 334 66 98 158. Vi ricordiamo che venire qui in pescavia è comodissimo, c'è un ampio parcheggio, quindi diciamo evitate qualsiasi tipo di stress.